Ciao a tutti, oggi prepareremo la pizza veloce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, farina di tipo 0, farina di semola di grano duro, lievito istantaneo per torte salate, zucchero semolato, olio evo, sale, polpa di pomodoro e scamorza. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito istantaneo per torte salate, lo zucchero, la farina di tipo 0, la semola, l'olio e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Stendiamola con il martarello in una sfoglia sottile. Posizioniamola su una teglia per pizza. condire con la polpa di pomodoro, la scamorza e l'origano. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti. La pizza è cotta, serviamola. Pizza veloce. Grazie e alla prossima ricetta. Buona notica. Buona notica. Buona notica. Grazie a tutti.